Brawler ragazzi, ben tornati con questo nuovo video, oggi siamo qua su Brawl Stars Come vedete è la season 7 Jurassic Splash con il Brawler Buzz Eccolo qua Cromatico E andremo oggi a sbloccare tantissime, tante cose Un bel box opening, 12 soglie Anzi 13, perché c'è anche questa cassa enorme E oggi siamo in compagnia di MZ Pro che sarebbe Sommer, cioè Samulink Ok, oggi andremo a fare un paio di partite in sopravvivenza Anzi, sì, due in sopravvivenza, una in rapina, va bene? Sì, prima però in rapina Ok, faremo una rapina, poi sbloccheremo quattro soglie, una sopravvivenza, quattro soglie E un'altra sopravvivenza, quattro soglie Ok, iniziamo con rapina, come detto, Samulink E metto il bronzo però Allora, io con rapina mi piace tanto usare Uso sempre quasi quello nelle candidate Pronto C'è un tetto da ora? Sì Oggi ovviamente se siamo in compagnia di Samulink Siamo in compagnia di Sebastian Ok E se c'è un insetto, guarda, viene Perché noi siamo adesso, in questo momento Ci troviamo all'isola d'Elba Dove abbiamo fatto anche lo scorso video Partita conclusa Te va bene se finiamo qua? No Dobbiamo vincerne una? Sì Va bene, facciamone ancora una Ultima Poi in qualsiasi caso andiamo ad aprire le prime quattro soglie Ciao l'insetto Ciao l'insetto Ok Possiamo andare a parte veloce Però al centro ci sono questi Ok, mi hanno ucciso Sono molto felice di quello che mi ha successo Basta adesso uccidere questi qua che ci sono qua Che non devono assolutamente rompere la cassa Allora io vado a romperla loro Ma no, ma perché? Stai tornando in... perché? Non ci credo Ultima adesso Ma sono serio Poi non mi importa se ne vuoi fare ancora una Dopo niente Fine Ok Allora Ok Ci siamo Ci siamo No, perché te ne vai tu? Perché te ne vai via? Perché te ne vai via? No, non ci credo Mi ho perso Ok Adesso non le facciamo più Ci siamo Tre sconfitte Che brutto Apriamo le prime quattro soglie Poi altre quattro Poi altre quattro soglie Perfetto Allora iniziamo Cassa enorme Prima soglia Ok Cassa enorme Potrebbe essere la nostra fortunata No Cassa enorme fortunata Non sei Dieci gemme Grazie dieci gemme Qua c'è una cassa brawl Con due skip Ok Cassa enorme Signori Cassa enorme Ultima Ultimo premio Di Di queste partite Diciamo Vai Qua no Quasi 100 gemme Quasi 100 monete Quindi Niente Adesso facciamo Partite in sopravvivenza Ok No Cosa è successo? Cosa è successo? Ok 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 Va bene Ok 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 La prima cosa Non ci hanno portato fortuna Ma ce ne abbiamo Molti molti altri E cosa più importante C'abbiamo la mega cassa E lui gli sta laggando E lui gli sta laggando Pure a me Sto cercando un posto di sta isola In cui prende bene Questo Edgar Lui ma non mi uccide Mi ha ucciso Complimenti Edgar Fai schifo Ok No niente Edgar Sei bravo Però Edgar Per chi conosce fortnite Sarebbe come dire Uno spammone O comunque qualcun altro Lo può conoscere Per un altro termine Da qualcos'altro Te king Te muori No Non sei morto Perché devo sempre morire Io ovviamente Per sta connessione Del cavolo Qua L'isola delba È bellissima L'unica cosa che non c'è Proprio Cioè c'è di tutto L'unica cosa che non c'è È la connessione Non sto dicendo Che è la morte Cioè non c'è la connessione Però Se vuoi Se stai cercando Di fare un video Non stai a posto Ok Edgar Ti ho strafregato E Sono proprio felice Di questa fregatura Questo lì c'è Lord Jackson Jason Lord Jason Mi sto capendo più Una ceppa No Signori Stiamo Non si Non si capisce niente Uno Non si capisce niente Due Ah Per fortuna è finita la partita Così possiamo prendere Altri Tre Tre soglie Tre soglie Quattro soglie Cinquanta monete Piccola Cazzetta Brovle Ok E due casse enormi Le casse enormi Che potrebbero portarci Fortuna Tre skip Cinquantatre monete Non credo ci sia niente Infatti Seconda Cassa enorme Questa Ragazzi Sta caricando Quindi ci potrebbe essere dentro Buzz Sto scherzando Ovviamente sto scherzando Signori Aprimi ti apro Come vuoi 62 monete Non credo che troviamo niente Ok Prossima Cassa Ah ecco Stava caricando i 400 oggettoni Ah non è vero Non prossima cassa Però Sì ne apriamo 4 la prossima volta No ne apriamo 5 Bene Ne apriamo 5 la prossima volta Quindi Pronto Ah Non Ok No Sì Sì Facciamo un'ultima partita Facciamo un'ultima partita Facciamo un'ultima partita In sopravvivenza Arrivo subito Ok Lui Va nella nostra Nella camera A fianco alla nostra Ok Ci siamo Squadra rimasta 5 Ok Iniziamo a giocare Ci siamo Ci siamo Ok No l'ho ucciso No l'ho ucciso Signori La Penny Devo dire che è forte Non ci possiamo Però nascondere qua Di solo per tutta la vita Quindi è meglio che Noi passiamo di qua Cavolo signori Non so se ce la facciamo Non so se ce la facciamo Ce l'abbiamo fatta Dove scappare 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 No L'ho ucciso Vabbè Fa niente Fa niente Fa niente Non fa niente No fa qualcosa Fa qualcosa Almeno sei coppe Non è la cosa più bella Che ti possa capitare al mondo Però 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 E' ancora in battaglia Quelli che ti mancano 46 monete Sapete Non è che sono troppe Oh Ecco signori Eccolo lì Lo stip luminoso Dei gadget Quale Quale Troveremo di gadget Forse una stellare No signori Signori E' il colonnello ringhio Trovato in una cassa enorme Cromatico E si ragazzi Cromatico Colonnello ringhio Felicissimi signori Siamo a posto così Il bello che l'avevamo detto poi E' E' un detto Guardate adesso che ci esce un cromatico E' uscito E' uscito E' uscito Megacassa Tu ci fai trovare un brawler E' la vita Però Però Ne abbiamo già trovato uno E ci basta così Ci basta e ci avanza Puoi farmi trovare Un 5 skip Un 6 skip con un gadget Un 6 skip con una stellare Va benissimo tutto 5 skip Ma fa niente ragazzi Noi ci accontentiamo Del Nostro Magico Colonnello Ringhio Eccolo qua Il colonnello ringhio Il nostro nuovissimo brawler Che adesso andremo a provare In una partita Perfetto Però in singolo Si un cane Si si questo Si vede dalle orecchie Dalla faccia E' un cane E' un cane così Senza Non c'ha senso E' uno No si che c'ha sempre E' E' il brawler Di due stagioni fa Se non sbaglio O due o tre Però credo due No Due Sì Angio Angio Tu che mi rubi Power up Te la faremo pagare Io e la Amz Ok Angio Tu stammi vicino Vieni qua No 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 Voi non mi uccidete Perché adesso Vabbè 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 Forse mi non avvicina Tu un po' troppo Vedo Possiamo riprovare Possiamo benissimo riprovare Facciamo un'ultima partita Poi Ringraziamenti Dalle casse enorme E poi Finito Non me la cassa No la cassa enorme infatti Cassa enorme signori Non ci uccide Ci uccide Ok Ho detto Ho detto E' l'ultima partita E' l'ultima partita Ringraziamenti Grazie Cassa enorme Numero 9 Che mi ha fatto trovare Un brawler cromatico Ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Se è così lasciate Tanti like Per un prossimo video Iscrivetevi al canale E attivate il campanino Per aver entrato Un video E nel next È tutto Ciao ragazzi